Una vittoria che apre uno scenario inedito, quanto mai inatteso. Il giudice di pace di Chieti ha immesso ben quattro sentenze di risarcimento per l'HSPA per le vicende dell'inquinamento dei pozzi Sant'Angelo a Bussi. A farlo sapere oggi è il Codacon Sabruzzo che annuncia l'avvio di un ricorso collettivo ricordando che ad essere esposti al rischio inquinamento furono ben 700.000 residenti. Noi abbiamo pensato che la vicenda di Bussi in qualche modo meritasse, che è una vicenda davvero scandalosa, vergognosa, meritasse una risposta da parte del territorio. E quindi abbiamo cercato di mettere in piedi un'azione che in qualche modo dimostrava che poi i cittadini abruzzesi non hanno l'anello al naso e hanno a cuore le vicende ambientali del proprio territorio. Ad ottenere tale traguardo uno studio legale di Ancona specializzato che ha ottenuto il massimo risarcimento consentito per legge di fronte al giudice di pace 5.000 euro a titolo di risarcimento danni per inadempimento contrattuale a causa di somministrazioni di acqua inquinata. Così si legge dalle carte. Questo è il terzo caso in Italia in cui un giudice ha riconosciuto un risarcimento del danno solo per il timor panico. Cioè queste persone non hanno contratto nessun tipo di patologia quindi non è che stanno male ma hanno semplicemente paura in futuro di poter contrarre una patologia perché per anni sono stati esposti attraverso la somministrazione di acqua inquinata a delle sostanze velenose. 700.000 le persone indicativamente che sono state esposte al rischio 4 sono state le persone al quale è stato riconosciuto questo rischio da parte del giudice. Nel caso in cui tutte 700.000 portassero avanti quello che poi è stata la richiesta di risarcimento chi dovrebbe pagare? Ma teoricamente dovrebbe pagare sempre l'ACA poi dopo credo che si andrebbe a parlare di somme che sinceramente non so neanche in grado se riuscirebbe a trovare. Però ecco, l'ACA è stato ritenuto responsabile ed è tenuto lui a pagare il risarcimento dei danni.